Ciao a tutti amici e benvenuti sulle radiofrequenze di Mirko Jax Oggi sentiamo un po' di musica e non ce ne spiega niente del copyright Su con le mani Ah, po' fanculo C'era sta song, era bellissima Un po' anni 90, non lo so La stanno mettendo qua Ma non riesco a capire come si fa Andare su Perché sta su Vabbè Sta su Radio FM Ma non so quando No, Sirius XM Però non so come Quando ci ho attivato Qua Apple Car Come faccio a switchare di là Non riesco a capire Ci ho qua, ci ho Apple Car Vabbè, sentiamo allora le ultime mie nuove song Vado di qua che faccio prima Le nuove song che c'è nella libreria Vediamo queste song Oh, questa è bellissima, attenzione, su con le mani Adesso va molto questo genere Mongolo Le famose canzoni mongole Bellissime Gengis Khan No, questo qui è venuto fuori Sto cantante a fare queste canzoni molto Molto, molto belle, no? O non so se è lui Sempre Fatto sai che adesso C'è questo genere Che impazza Soprattutto la Jacksonville Sentiamo, eh? Vai, c'è un Mongolo Tecno Dai, arriviamo al dunque Porca puzzola Che dopo vi devo far sentire un'altra Soprattutto la Jacksonville Aspetta, non è iniziata Calma Grazie a tutti 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 No Troppo Non ce la faccio Ricordi Ehi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti